Possiamo anche per certi versi dire ma forse vogliamo fare qualche cosa all'italiana meglio, visto che non siamo ancora arrivati in uno scenario di questo tipo. Ecco, io per questo ritengo che sia importante e ho aderito appunto a questo referendum e con particolare slancio e anche con particolare convinzione sono stato appunto tra i primi a firmarlo. Anche se poi la situazione specifica qui della nostra provincia e di Udine ha ulteriori complessità. Infatti più volte sono dovuto uscire sul giornale anche per spiegare come nel caso specifico AMGA, che attualmente è il nostro gestore dell'acqua proprio perché è figlia di un percorso che era quello delle municipalizzate e quindi gestisce anche il gas, gestisce anche i semafori, gestisce anche l'illuminazione pubblica, gestisce tutta una serie di altre cose e ha ovviamente una certa... anche qui uno può dire beh ma tanto c'è già un privato, sì è vero che c'è già un privato dentro, però comunque sono residua e residuale a delle impurità. si trova proprio a seguito di questa legge in una difficoltà al quadrato. Per cui noi stiamo soffrendo, quando dico noi, diciamo noi dell'amministrazione comunale, perché questa data che c'è attualmente su... se non scatta il referendum presto, è una data assolutamente capestro, ci obbligherà ad affettare la nostra AMGA, che peraltro fornisce acqua di buona qualità, ha un ciclo idrico perfetto, diciamo perché ha sia i pozzi, ha gli acquedotti, ha le fognature, ha il sistema della depurazione, quindi diciamo ha tutto ciò che serve, funziona in modo direi soddisfacente e a causa di questa legge, secondo appunto il mito che privato è meglio, che io non so come sia potuto arrivare, ma forse è anche giusto in certi contesti, mi sfuggono nel caso dell'acqua, forse è anche giusto che in certi contesti ci sia una libertà di concorrenza, l'Europa è costruita su anche principi di libera concorrenza, è giusto che non ci sia, se parliamo appunto dell'informatica, solo un sistema operativo, e non voglio dire quale, per cui appunto basta un virus in quel sistema operativo e ci troviamo tutti in qualche modo a gambe all'aria, lì forse è giusto imporre una concorrenza e quindi una competition authority e un'autorità sulla concorrenza è giusta, però ecco nel caso dei servizi di interesse generale, quelli che pongono le condizioni minimali, le condizioni elementari per l'organizzazione sociale, il rischio è altissimo, quello che per adesso è invece altissimo è il grado di remunerazione, perché bisogno d'acqua ce ne sarà sempre, come ci sarà bisogno di servizi sociali, come ci sarà bisogno di altre tipologie di servizi. La cosa poi qui nella nostra paese è ulteriormente aggravata, perché dovrebbe esserci poi un'autorità di controllo su tutto questo, che si chiama l'Ato, l'Ato Autorità Territoriale Ottimale, solo che anche su quello, negli ultimi 12 mesi abbiamo avuto questa sorta così, io lo chiamo veramente di terrorismo legislativo, dove il Parlamento e il Governo sparano decreti, decreti che dovrebbero avere poi regolamenti attuativi che non arrivano, dovrebbero avere passaggi che non vengono completati e quindi si crea un disastroso disorientamento. Noi adesso ci troviamo un Ato che non si sa se è legittimato o delegittimato, se le cose sono passate alla provincia o non sono passate alla provincia, noi siamo una regione autonoma, deve legiferare comunque entro il febbraio del prossimo anno, capite? E nel frattempo stiamo inesorabilmente scivolando verso quella che oggettivamente è una privatizzazione, quindi non solo stiamo scivolando la privatizzazione, ma anche l'autorità che dovrebbe essere l'autorità pubblica di controllo è stata delegittimata. Ma io a questo punto sono sinceramente preoccupato, però da un lato sono anche rinfrancato, perché sentendo i numeri che prima ci venivano dati dal Comitato, allora vuol dire che c'è speranza ancora, e tanta, in questo Paese, perché se qui ci sono quasi un milione di cittadini che questo l'hanno capito, questo ragionamento, anche se forse dal punto di vista economicistico, non ne conoscono i dettagli, però sotto il profilo appunto di quello che è il buonsenso, l'hanno colto, beh allora veramente c'è un futuro su quale costruire, c'è un futuro per il quale vale la pena veramente di operare e di lavorare, e in questo senso dobbiamo, vi è più completato il percorso dell'ITER, a mio avviso, fare propaganda per raggiungere questo quorum, proprio perché questa è una vittoria di civiltà, è una vittoria di senso civico, che va ben al di là, se è possibile, per quanto già, voglio dire, è un tema altissimo, però va al di là di quello che è il problema, anche dell'acqua, va veramente a toccare, intaccare, tutto il modo di organizzare la nostra società, adesso, nel futuro, anche per le future generazioni. Grazie. Grazie al sindaco Onsel per quello che ha detto, e che mi trovo perfettamente, totalmente allineato, prima era stato detto, adesso stiamo privatizzando l'acqua, poi privatizzeremo l'aria, io lo sto dicendo da diverso tempo, adesso sembra che le cose stiano andando, esattamente proprio da quella parte, e non è una berzelletta, purtroppo è la triste realtà.